Lavori al Molo Borbonico di Forio, ne parliamo con Gianni Mattera, una struttura che ha sempre l'attenzione dell'amministrazione. Sì, in effetti la zona alle spalle del vecchio Molo Borbonico, perché il Molo Borbonico è già stato interessato di lavori di riqualificazione già qualche anno fa, alle spalle del vecchio Molo Borbonico sono già quasi ultimati i lavori di riqualificazione di tutta l'area, per intenderci dove c'è la banchina d'emergenza costruita dalla regione Campania anni fa. I lavori hanno interessato una serie di sottoservizi, la nuova ripavimentazione e in più, sempre in quei lavori, sono compresi anche la riqualificazione, nel ripristino di quei famosi locali che è assegnati da anni ai pescatori per il ricovero delle attrezzature. Tutto questo ovviamente che dovrà accadere nel prossimo futuro per una struttura che ha un'importanza cruciale per l'economia del comune, anche in un'estate così particolare. Assolutamente sì, il comune di Forio probabilmente, se non ricordo male, è il comune che ha il più ampio numero di licenze da pesca, se non ricordo male dovrebbero essere 23-24 licenze, quindi quel polo, quel lato del porto è stato storicamente e rimarrà sempre storicamente in uso ai pescatori. Anche un altro fatto importante, proprio il molo borbonico è uno dei pochi punti di sbarco autorizzati dalla regione Campania per il pescato fresco, se non ricordo male ce ne sta soltanto un altro a Casamicciola e mi pare Ischia Ponte, quindi autorizzati con decreto dalla regione Campania, quindi l'amministrazione sia in passato ma anche attualmente nel presente pone massima attenzione per questo polo di pescatori che comunque creano economia e c'è un buon consistente numero di famiglie che vivono di questi mestieri.